Un programma come Interreg Med è essenziale in un momento in cui stiamo discutendo non solo del futuro dell'Unione Europea e delle prospettive finanziarie, ma all'interno di questo dibattito anche del futuro della politica di coesione. In genere i programmi di cooperazione territoriale per il fatto di associare più stati membri, più istituzioni, anche altamente qualificate, sono programmi dove la qualità progettuale è estremamente elevata. Il programma è molto particolare in un modo di strutturazione, è stato strutturato in un modo integrato, dove individuali progetti sono gruppati in temati gruppi di progetti, di comunità progetti, e questi sono coordinati da un progetti horizontal. I progetti horizontal sono progetti particolari inventati per coordinare i progetti temati, analizzare i risultati e portarli in messaggi di politica politica. Progetti come Interreg sono importanti non solo per i risultati concreti, ma anche perché servono a costruire fiducia tra le persone, fiducia tra le comunità e a far vedere come, provando soluzioni comuni a problemi comuni, si può effettivamente avanzare verso una società più equa e più giusta globalmente. Io credo che se guardiamo i 90 progetti già approvati e partiti, sappiamo che 49 hanno una presenza italiana, capiamo come questo sia anche una testimonianza della capillarità, della diffusione dell'importanza del Mediterraneo, la consapevolezza anche nelle nostre regioni e in Italia di quanto il Mediterraneo pesi e quanto pesi per l'Europa. Siamo cercando di collegare i progetti concreteri e i progetti comuni, con una platforme di politica 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 di politica di politica. La comunità è portata direttamente in una nuova dimensione di cooperazione, dove i risultati di progetti individuali sono usati come materiale politica politica di politica di politica. E' importante che i paesi che fanno parte anche di InterregMEG, quindi dell'area mediterranea, siano pronti a portare la loro voce e le loro ragioni per mantenere vivi questi programmi che sono al cuore della coesione territoriale nel Mediterraneo. Il Mediterraneo è una sponda strategica sia sotto un profilo politico che economico. Passeranno di là le nuove rotte della Via della Seta, sarà ripresa un ruolo strategico anche per i traffici che vengono dal Far East. È molto importante che l'InterregMEG resti un caposaldo della cooperazione territoriale.